Volete sapere come disegneremo noi oggi? Eccomi accontentati! In questo momento ci vedo esattamente come avete visto anche voi Signori! Dove siete? Siete pronti oggi a disegnare i Pokémon? Più contorti, ubriachi, tutto quello che volete? Insomma! Bene! Sei proprio carino con quegli occhiali, ti donano! Già non siamo bravi a disegnare! Figuratevi con questi! Oggi siamo qui con Air and Blaze! Ciao! L'Alabai! Ciao! Grazie! E' Michelle! E' purtroppo sta sempre qua ragazzi che ci volete fare! Signori! Oggi siamo qui per disegnare dei Pokémon con questi occhiali così! Con torti! Chiamateli come volete! Bene! Allora chi inizia? Prima le signore! Per sempre noi! Certo! Ovviamente come sempre team uomini e team donne! Infatti io e'Ren lo metteremo insieme! Perché dobbiamo indovinare il Pokémon che disegnerà... Il nostro compagno! Il compare! Sì! Il compare! Chi indovina di più vince! Ok! C'è un timer? No! 60 secondi! Lo mettiamo sul telefono? Fai a 45 almeno! Le lenti hanno varie gradazioni! Blu! Gialle! E verdi! Allora quelle di difficoltà più bassa sono queste verdi! Verdi! Quindi diciamo 1! Esatto! Le medie quindi 2 sono quelle gialle! Gialle! Le numero 3 le più difficili sono quelle blu! E niente! Chi lo indovina per primo ragazzi? Inizia! Ah! Inizia! L'alabai! Allora la difficoltà sarà da 1 a 3! Sì! Diciamo! Quindi ok Ugo! Dimmi un numero random da 1 a 3! 3! 3! 3! Vabbè quella che è difficile! Quella è blu! Quindi lenti blu che io le vado subito a settare! Partiamo male signori! Partiamo male! Vabbè dai! Generate! Oh! Oddio! Ok! Come faccio a disegnare quel coso? Tra l'altro in 45 secondi! Ok! Facciamo partire il timer signori per il primo disegno! Ci siamo! 3, 2, 1! Vai! Ok! Eh io non vedo niente! Sarà divertentissimo! Vai mi scelgo da indovinare! Eh fallo faccio! Con tanto di timer qua durante la registrazione! Che cos'è? Oh mio Dio! Cos'è quel coso? Ma quante gambe ha? C'ha le gambe! Oddio che bordello! Non vedo niente! Non è malaccio! 21 secondi! Eh come faccio a fare una cosa? È un Golduck! No! È qualcosa di molto figo! Che cos'è? Eh aiuto! Non posso parlare un po' più! Non posso dire niente! Ma fagli qualcosa sulla testa! 6 secondi! 5, 4, 3, 2, 1, ta-da! Dai Michelle! È vero facilissimo! È praticamente un Hitmonchan! Eh! Ma dove? Eh! Sono per i guantoni! Sono per i guantoni! Al comune! Ce l'ho fatta così! Dai ci stava! E' un Groot! Ciao! Sono Groot! No vabbè ma io devo far capire come vedevo io! C'è davvero io no! Guardate ragazzi come guardava la bai! Io non vedevo niente! Che poi in realtà dalla telecamera si nota a meno! Eh sì perché sono i tu e gli occhi! Eh infatti! Allora quindi tocca a me! Ok! Ragazzi facciamo generare! Ooooooooh! Posso guardare? Eh sì! Ok! 3, 2, 1, vai! Io voglio vedere! Allora! Allora! Eh non capisco! Vabbè dai non è male! È carino! Mammy tu! Sì! Sì! Ma cosa! Da la faccia! Bravissimo! Grande artista! Guardate che stupi mori qua! Arte! Arte! Arte contemporanea questa! Sembra un Charizard con le orecchie d'Orsay! C'è ma raga un foglio buttato per questo! Ma questi disegni poi li vendiamo eh! Non è che... Adesso però tocca a Michelle! Ok! Vi stupirò con le metate artistiche! 2! Beh! Oh le stiamo provando tutte le creazioni! Beh diciamo che varia! Ok! Gialle! Intermedia! Voglio morire! Michelle vedrà così! Prego! Che bordello! Allora quindi andiamo a generare il Pokémon! Viene mi giro! Oh! Ok! Non male! Non male! Posso girarmi? Aspetta che devo capire! Oh madonna mia! Pronta? Ok! 3! 2! 1! Vai! Ok! Ci siamo! È un... Eh sì! Oddio è l'evoluzione di... No! Che cos'è? Che cos'è Michelle? Lo vedo! È orribile! Oh mio Dio! Cos'è? Oddio dai! Oddio dai! Ci sta! Ci sta! Un po' semplificato! Io penso che è meglio di così non posso farlo! Che cos'è un Beedrill? È un... No! Beedrill? È al corno! Che cos'è? Dai! È bellissimo! Non fa il free? 15 secondi Michelle! Oddio! Dai! Disegna l'ambiente! È quello che sto facendo! È intelligente! È una cosa intelligente! Che cos'è un pino quello? Ma davvero non sto capendo! No! Ma... Eh... Eh niente Michelle è andata! È andata! È un po' così! Io avrei fatto così! Avrei fatto! Che cos'è? Come se stesse sottoterra no? Perché è un Senslash! Ah! Così l'avrebbe capito subito! Ma era carino! Così l'avrebbe capito subito! Mi sembrava un po' che mon volante! Ai ai ai! E vabbè! Signori! Adesso tocca a me però! Tre! Sì! Tre! Tre! La gradazione è più difficile! Ugo questa volta! Grande Ugo! Oh dai! Quindi blu? Devo metterle blu signori! Che poi sembrano le più easy perché non c'hanno niente di strano sulla superficie ma invece... Invece no! Invece no! Allora! Allora! Dovete generare il Pokémon io non devo vedere quindi fate voi! Michelle quando è attiva via! Ok! Metto eh! No! No aspetta aspetta aspetta! Aspetta è un bordello! Aspetta chi è che devo fare? Aspetta no ce l'ho! Ce l'ho! Però! Andiamo benissimo! Vai vai vai! Uno! Via! Eh! Ok! Ci provo! Fra! Fra! Ma è difficilissimo! Ma ci vedi davvero? No non ci vedo niente ragazzi! Che piedi sono quelli! No non ci vedo è assurdo! Perché io ho visto così! È assurdo! Mister Mime! Come fa! Ma come hai fatto? Ma che cos'è? Ma come hai fatto? Nemmeno lui sapeva cosa stava disegnando! C'è tu da questo mi dici che è mister Mime? Si! Ammazza quanto so bravo allora! E l'ho capito! Ma bello! E l'ho capito! Ma è perché ha fatto tipo le gambe buffe con gli scarpini! Bella! Bella! Ma non l'ho capito neanche lui! No no no! Io non sapevo dove ragazzi non si vede niente con questo c'è è qualcosa di assurdo! Ma anche la testa e le cose da background! Ma vabbè ragazzi non si vede niente facciamo l'altro giro! 2-0! 2-0! Facciamo l'ultimo giro dai! 2! Ho 2! Allora ti sentiamo un bel occhiale giallo! Ok giallo! Venga a te i tuoi nuovi occhiali! Fantastico! Ok 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 hai visto? Sì ho visto! Ci sta ci sta! Ci sono! Ok io posso guardare! 3 2 1 via! Ok! Non vedo niente! E' difficile disegnare questi occhiali! Che brutto! Oh bella! Oh bella! Però fatti i dentoni fatti i dentoni non mai! Che brutto! I dentoni! I dentoni! Mamma mia ragazzi! Mamma mia! Dai a meno un punto! Siamo 2 a 1! Santo cielo! Se indovini il mio ora vinciamo! Vinciamo domandicamente! Mi avete già vinto! 2! Ok quindi rimangono così! Rimangono quelli medi! Quelli gialli per her! Va bene! Let's go! Lo accetto! Allora Fede non guardare! No non guardo! Metto il timer qua così che lo avviamo subito dopo! E vabbè dai! Ci sta! Ci sta! Ci sta! Vai! Mi serve la biro! Ci siete! 3! Devo prendere le misure! 2! Ok ci sono! 1! Let's go! Allora! Allora! E vabbè! Magneton! Magneton! E vabbè! Come no! Graduazione! Graduazione! Ecco qua! Il vuoto! E questo è difficile Michelle! Questo non ce la fai! Oh mio Dio! Mi sembrava una specie di Ekans ma... Eh? Beh! Non è così male! Tiwi! E' un manzio però eh! Flareon! Brava! Ok! Bravissimo! Quanto brutto! E' carinissimo! All'inizio l'avevo preso per un Weedle perché stai facendo le molline! Va bene quindi quanto siamo? E adesso manca 3 a 2! 3 a 2! Ci manca... Ci manca Fede! Manco io! Vediamo se le azzecchiamo tutte! Vediamo un po' quanto siamo forti il team Federic Blades qua! Fede... Federen! Numero da 1 a 3! 3! Bello! Rimettile su! Rimettiamole allora! Vai! Onesto! Bella questa! Vengo! Ci sta! Allora mi startate voi? Ci stiamo! 3! 2! 1! Vai! Dragonair! Vabbè! Ragazzi! Troppo forti! Vabbè! C'è un'intesa secondo me... C'è veramente... L'intesa vincente! Di alto livello! Spero che questo video vi abbia strappato una risata e vi abbia bello! Divertito! Mi raccomando un bel like per Eren e i suoi fantastici occhiali! Un commentino qui sotto! Iscriviti a tutti i canali! Conoscete un po' di challenge in questi giorni anche sul canale di Eren di Lala Bay! E niente! Non ci vedo più! Sono incoglionito! I miei occhiali li rivolgono! Guarda gli occhi! Guarda gli occhi! Guarda gli occhi come li fa giganti! È vero! Quello blu li fa più grossi! Se li metti sulla punta del naso è ancora più ridicolo! E ci vediamo al prossimo video! Ciao! 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 Ciao!